Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti. Grazie anche a parte mia di essere qui. Questo credo sarà molto breve così vedete più azioni. Qui accanto a me dal Brasile, dal caldo, dal Rio di Janeiro, da Sao Paolo e il grande Filippo Massi. Perché si cresce molto e poi magari si può arrivare in Formula 1. Vieni che devo andare in macchina adesso. Filippo Massi. Filippo Massi. Numero 1. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono stato il settore d'ascosto. Oh bravo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.